Sta effettivamente nevicando all'Argentera e sul massiccio del Monviso, le nubi che abbiamo visto così massicce in questi giorni effettivamente si sono fermati ai confini. Ci sono vere e proprie bufere di neve anche in Val d'Aosta e in alta Val di Susa, qui invece c'è vento, vento che scende e comunque tende a rinfrescare ancora per quanto riguarda questa giornata l'aria. Sarà ancora così nella giornata di domani, ci aspettiamo raffiche di vento che sui rilievi confinali, quindi sulle montagne arriverà fino a 120-130 km all'ora e anche a largo del Mar Ligure sarà un pochettino la stessa cosa. Raffiche che arriveranno anche in pianura sul Fossamese, Monregalese e sulla parte del Saviglianese, quanto che erano i 60-70 km all'ora. Saranno repentini annuvolamenti e praticamente schiarite, continuerà così con questo tempo comunque secco, ricordiamo che in pianura non ci saranno precipitazioni ma annuvolamenti sparsi, fino alla giornata di martedì con episodi effettivamente ancora rafficosi di vento e poi un Natale che sembrerà come tendenza, diciamo così, mite, con l'alta pressione, nebbia sui bassi piani.